Guardate che comune è? Pedrengu Pedrengu, provincia di Berger Ehi, le chiavi! Ci ho metto due auto Grazie, le chiavi di con il dito Siamo a vedere che la signora è la casa Sta bruciando il piede Ehi, potremmo anche rincere, eh Ehi, che vedi Cosa è una barba di potezionare? Ehi, che vedi Ehi, che vedi Ups Che è questa cosa è una barba di potezionare Grazie. 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 Grazie.